Questa è una recensione dell'AOR-1 Combat Set Olwin è una compagnia di Hong Kong che produce replicas di uniforme affidabili e qualità La recensione dell'AOR-1 è un patente dell'AOR-1 usato dai team di navi e altre forze speciali come base in ambienti deserti La replica di Olwin non avviene una comparazione con la precisione reale, ma assolutamente offre una alternativa più barata ma ancora un'alternativa più usabile per aiutatori rari, re-inactori, cosplayer e usatori casuali Il materiale del cotone sul torso ha una qualità accettabile e è anche un po' stretto Anche la parte del vestito del vestito è almeno 5-6 inchi più corta di precisione Mi piace mantenere questi vestiti riposati tutto il tempo Mi sento solo che il combat è abbastanza forte e un po' corto quando i vestiti sono sotto e sotto Il combat ha i paddini interni sui piedi, mentre il combat, proprio come la precisione di crepe, ha i paddini rinnovabili Il combat ha i paddini armati con velcro esterno Il combat ha i paddini armati con tre pochetti per ogni lega In effetti, posso iniziaare il cibo per l'esercizio con i paddini di velcro integrato Inoltre, posso utilizzare il cordo in dentro dei pochetti per aggiustare i paddini armati 8. Il materiale spettacolo sui piedi e sull'esercizio sembra bene, ma è meno qualità comparata con la città di precisione. Nell'occhio troverete un zippero AY WK. Considerato che il costo del vento costa circa 10 volte meno che la precisione di precisione, non è davvero un buon problema. I materiali e la città sono bene e l'uniforme sicuramente durerà per un buon tempo sull'esercizio. Nel schermo del coloro AOR1, devo dire che è abbastanza scoperto, comparata con una fabbrica legittima Eagle London Bridge o di precisione di precisione di precisione. Grazie per aver guardato questa ricerca, non dimenticate di lasciare, commentare e di iscrivervi al nostro canale. Per più contenuti, cliccate sui link interattivi. Vi vediamo la prossima volta e stai sicuro qui!